Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 6 km di coda in diminuzione per un incidente ora risolto tra Valdarno e Firenze Sud. Sempre verso Bologna, tratto chiuso per lavori, tra Aglio e Ronco Bilaccio. In A11, in direzione Firenze, coda a tratti tra Montecatini e l'allacciamento con la 1. Rallentamenti tra Firenze Ovest e Prato Est, in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPILI, in direzione Mare, 7 km di coda per un incidente ora risolto tra la diramazione per Pisa e Pisa Nord-Est. Sempre in direzione Mare, 2 km di coda per lavori, tramonto Polivaldarno e Ponte d'Era Ovest e Ponsacco. In direzione Firenze, coda a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Per mal tempo, la linea ferroviaria tra Prato e Vernio è sospesa almeno fino a mercoledì mattina. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!